salve buona serata tutti iniziamo il nostro consueto appuntamento il con il quadro macroeconomico la seduta oggi per quanto riguarda le borse europee hanno chiuso con il segno più infatti non abbiamo assistito a una seduta dove appunto tutta l'azionariato del vecchio continente e ha subito delle ottime performance partiamo dal DAX che appunto ha chiuso all'1.50% poi l'Ibex invece ha chiuso al più 0.64% il CAC ha segnato un ottimo 1.44% il FUTS di Londra 1.11% e infine il FUTS MIB la nostra borsa piazza affari che chiude a più 1.37% invece per quanto riguarda il mercato diciamo le notizie macroeconomiche la giornata è stata senza market mover provenienti dal continente europeo durante la nottata in Australia è stato pubblicato il dato relativo alla disoccupazione che è rimasta stabile al 6.2% il dato che si riferisce al mese di settembre calano di 13.9 mila unità i lavoratori full time mentre quelli part time salgono di 8.9 mila unità mentre invece subito dopo durante la sessione pomeridiana nel momento in cui dall'apertura della sessione di Wall Street negli Stati Uniti abbiamo due market mover importanti le richieste di sussidi di disoccupazione che scendono a 255 mila unità quelli che si riferiscono praticamente alla settimana del 10 ottobre in calo rispetto attuale 260 mila della settimana precedente le attese erano per un dato pari a 270 mila unità poi a seguire abbiamo stato pubblicato anche il dato relativo all'inflazione che ha subito un calo infatti a settembre il tasso di inflazione si è attestato allo 0% su base annuale contro il 0.2% del mese precedente il dato seppur il ribasso è migliore delle attese degli analisti che avevano previsto una inflazione in territorio negativo al meno 0,10% queste sono praticamente sono state le notizie più importanti del quadro microeconomico adesso passiamo direttamente all'analisi del mercato valutare partendo dalla diciamo dalla coppia più trattata del mercato forex che subisce una forte battuta del resto infatti con la seduta odierna vede questa qua che si conclude tutta a favore dei venditori che annientano quasi completamente il movimento realzista che abbiamo avuto ieri dal punto di vista tecnografico possiamo riassumere questo cambio improvviso di tendenza come una vera e propria prova di forza della resistenza o meglio dell'area di resistenza più volte analizzata nelle precedenti analisi dove passano contemporaneamente due livelli deli questo di 1,1430 e questo di 1,1460 in pratica i prezzi di aver testato alla zona di qui sopra subiscono un ripiegamento verso il basso inoltre dal grafico si evince anche in passato sulla stessa area vedete quante volte è stata in molte occasioni la coppia è stata rigettata con violenza verso il basso una volta qua un'altra volta qua un'altra volta qua e ve li seguo infine ricordiamo che in uno scenario più ampio ci troviamo sempre all'interno del canale realzista per quanto riguarda la situazione futura resta ancora a volte una luna di incertezza nel senso che al momento non abbiamo elementi certi se il ripiegamento è ribassista o dirno questo qua possa essere una semplice battuta di arresto da parte dei compratori per poi prendere fiato per scoccare il colpo di grazia e riportarsi al di sopra dell'area di resistenza o viceversa potrebbe essere l'inizio di una nuova fase di correzione ribassista come è successo parecchie volte in passato al momento però siccome ci troviamo al centro del canale realzista nelle prossime sedute lo scenario di breve potrebbe avere gli risvolti sia negativi che positivi con una probabilità su ambedue le strade al 50% ora passiamo al dollaro yen il dollaro yen vediamo che praticamente dopo le forti perdite delle scorse sedute vediamo che nonostante appunto la brutta performance della produzione industriale del sollevante e il rimbalzo del mercato nipponico con il Nikkei che ha chiuso a 1.14% lo yen nella seduta odierna rimane abbastanza tonico un attimo che ho esposto ok rimane abbastanza tonico la sessione di contrattazione in Europa si apre con una buona intonazione ribassista fino a riportare il rapporto del cambio tra il greenback e la valuta giapponese a toccare un minimo questo qua a 118.05% salvo poi subire nel corso della seconda parte della giornata uno storno fino alla chiusura a 118.87% dal punto di vista tecnografico possiamo confermare che la fase di storno è dovuta soprattutto al blocco in prossimità della zona di supporto in area 118.40% che ha incontrato la major durante il suo movimento ribassista nelle prossime sedute teniamo monitorato questa zona di supporto dove adesso si è appoggiata la major a 118.40% dove è possibile avere informazioni di ingresso al mercato da parte dell'azione del prezzo mentre per quanto riguarda il cable il cable dopo la forte spinta rialzista che ha caratterizzato l'intera giornata di negoziazione di mercodieri anzi mercoledì di ben 250 punti vedete questa grande fase rialzista oggi abbiamo assistito a una giornata di consolidamento o meglio una giornata dove chi ha approfittato della lunga corsa al rialzo oggi ha tirato il rim in barca chiudendo le proprie posizioni di acquisto ciò ha comportato una prima fase odiana dove le quotazioni sono ritornate indietro ok al test del supporto a 1.54 e 22 per poi ritornare a spingere verso l'alto sulla finale di seduta vedete poi qua infatti la chiusura è stata molto vicina alla parte superiore del range della candela molto probabilmente nelle prossime sedute potremmo avere una fase di riposo del movimento dopo questa fase appunto di riposo del movimento rialzista potrebbe avere ulteriori risvolti anche nei prossimi giorni anche se non escludo altri movimenti ribassisti imminenti in quanto se vediamo bene se andiamo a tracciare ho riscontrato un'altra divergenza ribassista vedete tra la dinamica dei prezzi e allo stesso momento invece l'RSI l'RSI fa dei massimi inferiori mentre invece qua abbiamo dei massimi crescenti quindi non escludo che da questo punto qua da questa zona qua potremmo avere anche dei risvolti negativi per quanto riguarda invece il dolore americano dolore canadese la coppia che vede contrapposti il dolore americano con il dolore canadese appunto si trova all'interno di una mini congestione eccola qua guardate qua si vede meglio no? di una mini congestione tra la resistenza mensile questa di colore verde a 1.3060 e un'altra giornaliera a 1.2830 nelle prossime sedute cercherò di monitorare questa zona dove potremmo avere in futuro ottimi spunti di trading passiamo al kiwi New Zealand dollaro dollaro americano allora ieri non so per chi mi ha seguito la direzione vedete la direzione realzista che ho messo in preventivo nell'analisi di ieri è risultata giusta ovvero oggi la coppia si è mossa al rialzo ed ho avuto quest'altra spinta realzista ma purtroppo in movimento subito è partito verso l'alto subito diciamo è scattato subito verso l'alto non triggerando l'ordine che aveva posizionato con la formazione dell'engulfing back bullish questa qua data a queste due candele quindi a questo punto la pendente non vale più quindi io l'ho cancellato per quanto riguarda la situazione futura attendo altre informazioni da parte dell'azione del prezzo per cercare di entrare in corsa su un movimento realzista che è iniziato esattamente il 23 settembre ora passo EuroCAD EuroCAD settimanale diciamo che vedete io sono entrato al mercato sulla hammer che si è formata la settimana scorsa con falsa rottura di questo del supporto posizionato uno 46 e 30 purtroppo su indicazione quindi io sono entrato il quale però l'ordine è stato triggerato un paio di giorni fa ieri ero in guadagno di 70 punti la mia posizione era in guadagno di 70 punti però oggi con questo momento ribassista ha spinto la posizione il pendente con una perdita momentanea di circa 90 punti però al momento lascio tutto come sta non faccio nessun tipo di modifica per poi vedere prossimamente cosa succede per questo è tutto buona serata a tutti e grazie mille ci sentiamo domani sera